348 parlamentari turchi hanno votato per togliersi l'immunità. In 155 si sono espressi contro la proposta dell'HKP, partito del presidente Recep Tayyip Erdogan. L'approvazione del provvedimento, che necessita di un secondo voto, potrebbe far finire sotto processo 138 deputati, in gran parte di opposizioni, tra i quali 50 dei 59 filocurdi dell'HDP, accusati per lo più di essere affiliati al partito messo fuori legge del PKK. Togliere l'immunità in questa istituzione porterà a un colpo di Stato e a un regime dittatoriale. Questo ne sarà la ratifica. Abbiamo fatto una proposta sull'immunità, ma non è stata accettata. Sì, anche dell'MHP a quella di maggioranza. Dobbiamo concludere entro venerdì. Nessuno dovrebbe avere paura di rendere conto delle proprie azioni. Coloro che urlano terroristi e spaventano il Parlamento dovranno pagare il prezzo del loro tradimento. Il 2 maggio, all'inizio del dibattito, si era giunti allo scontro fisico tra i parlamentari. Il prossimo voto sulla modifica costituzionale dovrà ottenere almeno 367 sì per evitare il referendum. Ne bastano 330 per l'approvazione. Il 2 maggio, all'inizio del mondo.